non so come verrà questo video alla fine vi spiegherò anche le motivazioni non so come si vedrà spero molto bene fatemelo sapere qui sotto nei commenti e mentre andate qui sotto e lasciate un like a questo video per supportare come al solito tutto il lavoro lavoro tra virgolette che porto su questo canale youtube scaricate one football il link qui sotto in descrizione ragazzi la sfida con l'alastro si avvicina è molto importante come era importante la sfida col fare in virus dove abbiamo fatto tre punti dove abbiamo già approfondito tutto il discorso ora concentriamoci con l'alastro c'è anche questo caos tamponi qui sotto in descrizione one football vi spiega tutto in maniera completamente gratuita non fatevela sfuggire allora parliamo di una cosa di bala ma parliamo anche di un'altra cosa morata aggiungiamoci una terza ronaldo ricordate l'anno scorso per chi mi segue già da qualche tempo c'è stato un momento nella stagione con sarri nella quale mi sono proprio detto mister per cortesia proviamo di bala dietro ai guain e ronaldo perché avere a disposizione tre giocatori di questo calibro e non vederli insieme sicuramente un peccato potremmo ritrovarci un giorno un domani a dire potevamo sfruttare meglio quel tridente che avevamo a disposizione l'abbiamo fatto abbiamo preso molte sberle quando è arrivata proprio questa conformazione dalla stessa lazio mi ricordo anche la sconfitta col napoli dove ronaldo fa gol all'ultimo secondo con quel lancio lungo che era una terza categoria ed è stata l'unica azione efficace di quella partita insomma non è andata bene non è andata bene per una marea di motivi però vi dico anche che durante questa campagna acquisti quando si era parlato di duvan zapato quando vi avevo dato le mie impressioni avevo detto questa juve potrebbe giocare con il 4 2 3 1 con ronaldo esterno e con duvan zapata davanti con di bala dietro e con un altro esterno sulla destra ve lo confermo ancora con un giocatore come duvan zapata vorrei provare questo sistema di gioco oggi abbiamo invece alvaro morata alvaro morata che fino a qua ha fatto veramente qualsiasi cosa ci ha dimostrato di essere un giocatore di altissimo livello molto più forse rispetto come ce lo ricordavamo magari anche un momento passeggero magari sicuramente a un certo punto smetterà di essere così decisivo io mi auguro assolutamente no ce l'ho anche al fantacalcio tra le altre cose però potrebbe essere veramente un momento in cui alvaro è super determinante e un giorno tornerà l'alvaro morata della prima parte dell'avventura di ventus che secondo me è stata ottima ma sicuramente anche inferiore di questo alvaro che abbiamo avuto in questo momento o l'alvaro degli ultimi anni ripeto mi auguro di no credo anche di no però può accadere però dalla stessa parte mi dico ronaldo sulla sinistra di bala trequartista morata punta che ne so chiesa quadrado coluseschi sulla destra si può fare ovvio che si si può fare sulla carta lo possiamo fare lo faremo sono un po più dubbioso su questa cosa ma vi spiego anche il perché ho visto che ronaldo e morata funzionano e forse ho scoperto un po l'acqua calda perché perché ronaldo ha sempre voluto un giocatore di questo tipo non è un caso che il miglior ronaldo madrid è stato ronaldo con benzema di fianco che giocava per lui e lo stesso benzema senza cristiano ronaldo da quando se n'è andato cristiano ronaldo lo stesso benzema ha aumentato notevolmente no la sua presenza in area di rigore la sua presenza in zona gol e i suoi numeri stagionali segna molto di più da quando non c'è cristiano ronaldo è diventato un giocatore molto più incisivo rispetto al benzema che c'era con ronaldo di fianco è normale un grande giocatore come ronaldo calamita i gol li attira verso di lui e qui va a prendere anche i piazzati in rigori le punizioni quindi sicuramente segna di più ma anche la squadra cerca di finalizzare il gioco per far finalizzare cristiano scusate la ripetizione dibale e morata funzionano dibale e ronaldo lo sappiamo è una roba un po particolare ma perché perché è così efficace il tandem attacco ronaldo morata io ho notato una cosa sono due giocatori che riescono a giocare anche lontano dalla porta molte volte cristiano lo abbiamo visto nella partita di champions partire da sinistra e accentrarsi e cercarsi spesso ronaldo e morata come l'occasione del gol con lo spezzo di cristiano ronaldo il primo con la sua assist di morata o l'altro giorno c'è stata la situazione inversa nella quale cristiano ha cercato morata o addirittura morata ha cercato cristiano a porta vuota dove doveva tirare ma questo l'abbiamo già approfondito però sono due giocatori che possono giocare molto vicini possono trovarsi uno in rifinitura uno al centro dell'area e sappiamo bene quanto è stata problematica la scorsa stagione senza mai riempire l'area di rigore no ecco quando morata gioca in rifinitura cristiano gioca in area quando cristiano gioca in rifinitura morata gioca in area o addirittura entrambi a un certo punto se ci sono dei giocatori tipo ramsey che vanno occupare quella zona di campo e allora da qua mi nasce l'idea e se invece che ramsey paolo di bala e se invece che paolo di bala kuleseschi si possono assolutamente essere così però in quella situazione vai ad incatenare non tanto morata che secondo me è abile a giocare su tutto il fronte d'attacco non è per forza di cose un giocatore che deve stare in area non è per forza di cose un giocatore che deve partire da lontano ma in pensieri un giocatore come di bala secondo me in questo momento in questo schieramento tattico oltre ad avere anche un altro giocatore come chiesa o kuleseschi sugli esterni o quadrado sugli esterni quindi una massiva una massiccia presenza di attaccanti che possono portarti via un po di equilibrio la presenza di paolo di bala insieme agli altri due ripeto di bala e morata funziona molto bene per quanto mi riguarda di bala e ronaldo un po meno ma ci si può lavorare aggiungendo un terzo giocatore che non credo dover essere morata però spingi cristiano lo obblighi a giocarla davanti a giocare all'interno dell'area di rigore e sappiamo che non è proprio una cosa che gli piace da impazzire lui vuole partire da sinistra lui vuole poter svariare un pochino invece alvaro può benissimo giocare da centro avanti giocare di sponda l'avete mai visto un cristiano ronaldo che fa il gioco che fa alvaro morata con tutte quelle sponde con tutti quegli appoggi con tutte quelle palle lunghe che va a pulire fa quegli stop che poi vado allargare no cristiano è più un giocatore che la palla la vuol portare lui la vuol portare su se sta partendo da lontano oppure la vuole all'interno dell'area di rigore perché ha l'istinto del bomber no d'attaccante puro rapace d'area di rigore morata invece un giocatore molto più generoso per questo che si trovano molto bene insieme di bala invece lo vedo sempre meno presente in area di rigore qualcuno dirà l'ha rovinato allegri non sono completamente d'accordo con questa cosa perché effettivamente l'ultima stagione di allegri di bala non ha giocato un grandissimo calcio ma proprio perché c'era lo stesso problema manzukic si sbatteva tanto per cristiano ronaldo e cristiano ronaldo beneficiava beneficiava tanto della presenza di mario manzukic anche la scuola settimana abbiamo parlato del fatto che bernardeschi in quel momento sembrava il giocatore perfetto per completare il tridente perché era un esterno perché aveva determinate caratteristiche aveva sicuramente un'altra testa e in quella prima parte di stagione era giusto per giocare federico bernardeschi piuttosto che paolo di bala di bala si esalta se c'è un giocatore come iguain se c'è un giocatore come morata che giocano perfettamente perché è lo sport più vecchio del mondo per quanto riguarda il calcio avere una prima punta e una seconda punta che si cercano si trovano magari gli esterni che vanno in sovrapposizione di bala ti crea calcio di vale molto più regista e allora qua mi è venuta un'idea e se paolo di bala potesse adeguarsi al fatto di fare l'esterno di destra perché un di bala che parte da destra e un ronaldo che parte da sinistra con un morata che si sbatte per entrambi sicuramente date le condizioni ballistiche le abilità ballistiche di entrambi cristiano che tira da sinistra col destro paolo che tira da destra col sinistro sicuramente uno spettacolo se devo immaginarmi invece di bala trequartista con questi altri due un po meno ed è clamoroso quello che dico perché sono sempre stato uno di quelli che diceva paolo sulla destra non ci può giocare però in questo momento vi dico che cristiano e morata funzionano talmente tanto bene in questo momento da da coppia di attaccanti che mi viene in mente come di bala possa ricoprire una posizione molto più estesa lo abbiamo visto ramsay fa quello sia da egua gira parte anche un po più indietro fa il centrocampista lo stesso kuleseski nella partita contro la dinamo di chieve faceva quello giocava sì sulla destra ma anche un pelo più interno una specie di finto esterno alto una specie di finto trequartista una finta mezzala perché quadrado poteva andare in sovrapposizione quindi se devo dirvi qua 3 4 1 2 con di bala esattamente dietro a questi due forse no forse no perché non mi convince ma se di bala accetta o di partire dall'esterno o di essere più centrocampista più trequartista più regista no il giocatore che che muove la manovra che decide il gioco davanti che detta i tempi è un'idea che mi intriga e molto sta tutto in paolo perché credo che paolo abbia le capacità e l'intelligenza calcistica che è la cosa più importante di capire come muoversi quando accelerare e quando invece fare anche un passo indietro e far esultare farla risolvere agli altri a suon di gol poi ci sono sempre i calci da fermo che col suo mancino può risolvere un qualsiasi momento forza paolo adeguati per fare veramente il salto di qualità e diventare un giocatore indispensabile in questo evento poi è sempre bello poter dire che dalla panchina salgono tra di bala tra morata taccluseschi tra chiesa giocatori in grado di risolvere le situazioni più difficili perché vi dicevo spero che si veda bene questo è il primo video che registro con la mia nuova fotocamera quella che ho messo su instagram è una canone os m50 devo fare un po di prove perché non sono assolutamente pratico in questo ambito per quanto riguarda la fotografia e la ripresa digitale ma voglio cercare dare un'impronta più professionale a tutti i video che vi porto e quindi sto investendo tanto su me stesso spero che si veda anche dall'altra parte una maggiore qualità all'interno del video magari anche audio perché ora prenderò anche il microfono perfetto per questa fotocamera vi informo invece che non ci sarà la live reaction a ferrenvaro su eventus per il semplice motivo che sono arrivato lungo e non mi ha scaricato il file da twitch 6 giga di file perché è pesantissimo due ore di diretta due ore abbondanti di diretta a 1080p non me l'ha scaricato in tempo quindi non sono riuscito ad editarvelo vi porterò magari ci proverò un riepilogo di tutte le mie reazioni a fine anno tutto quello che ho ve lo metto in un unico video e faccio un best of delle mie live reaction che ho registrato all'interno di quest'annata ragazzi direi che per oggi è tutto ci vediamo domani dove ci sarà sicuramente la conferenza stampa di Andrea Pirlo vi ricordo OneFootball per capire se l'Alasio potrà giocare con immobile con tutti i giocatori che sono rimasti coinvolti in questo caos in questa problematica dei tamponi un mi piace a questo video e ci vediamo presto magari anche su Instagram